A soli 15 anni organizza ed esegue l'omicidio di due affiliati del clan per dare l'esempio per punire iniziative che erano state considerate troppo autonome. Un rappollo del clan amato pagano che a Melito di Napoli è stato arrestato dai carabinieri e lui hanno accertato i carabinieri il mandante autore del duplice omicidio di Alessandro Laperuta e Mohamed Nouveau consumato in un appartamento di Melito il 20 giugno 2016 per punire iniziative delle vittime non in linea con la strategia del gruppo camorristico. A scoprirlo le indagini dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della tenenza di Melito. Oggi i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della locale procura con le accuse di omicidio aggravato da finalità mafiose e di detenzione e porto illegale di armi da guerra a carico del ragazzo di Melito, ora sedicenne, ritenuto un elemento di spicco del clan camorristico degli amato pagano operante a Melito e nei comuni vicini.